Grande risultato Noelia, 4 a 1. Come possiamo commentare questa bella vittoria? Primo tempo con un bellissimo approccio da parte vostra, l'Isolotto si è rimesso in partita, nel secondo tempo avete approfittato cinicamente delle occasioni, delle ingenuità che ha commesso anche l'Isolotto. È stata una bella partita, sapevamo che dovevamo approfittare la prima partita in casa e penso che la squadra, tutte, siamo state cattive e quello che tu hai detto è ciniche perché abbiamo approfittato l'errore di loro, cosa che in alcune partite ci ha mancato, quindi felicissime per tutte, per la squadra e perché penso che ce l'abbiamo meritato. Qual è stata la qualità migliore del Montesilvano nel secondo tempo? Quando l'Isolotto sembrava stesse controllando un po' l'inerzia della gara, no? Sì, loro stavano controllando un po' la partita e quindi noi abbiamo approfittato le contre e quando loro venivano al campo nostro noi uscire veloce per approfittare e cercare di fare gol così. Adesso gara 2 a Firenze sabato non sarà facile, c'è una Sely Gaillard in più nell'Isolotto, è un pericolo comunque concreto, però questo Montesilvano ci arriva sulle ali dell'entusiasmo. Purtroppo sì, ci sarà Sely che oggi non c'è stata, lei per me è la migliore dell'Isolotto quindi dovremo essere ancora più cattive e più forti nella seconda partita, dobbiamo fare di meglio quello che abbiamo fatto oggi, migliorare questa settimana, adesso già solo dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, il passo che ci manca è fare il meglio possibile ognuna per portare le Scudetto a casa. Grazie. Grazie a voi. Grazie.